I topi sono animali domestici carini e soffici o mostri terrificanti! Guarda il nuovo video di Woohoo sulla caccia al dopo in casa tua! Buongiorno! È ora di svegliarsi! Ma cos'ha la mia sveglia che non va? È rotta! Cosa posso mangiare per colazione? Ehi, chi ha fatto un buco nel pane? È praticamente un tunnel! C'è un ladro di pane qui dentro? Questo è un casino! Cos'è successo durante la notte? Voglio un po' di farina d'avena per colazione! Ups! Cosa? Qualcuno ha già aperto il pacchetto? È ora di prepararsi per il lavoro! Dov'è il mio zaino? Ups! Ma qualcuno ha mangiato il fondo! Il mio rapporto! Cosa? C'è un trituratore vivente in casa mia? Oppure... Un topo! Ecco da dove viene! I miei abiti da lavoro! Oh, c'è un buco! Niente di che! Lo coprirò! E nessuno se ne accorgerà! Era un buon piano! Ma poi ci sono stati troppi buchi! Qualcosa non va? Il prossimo! Devo prendere un gatto! Cercherò un servizio di noleggio di gatti! No, è troppo elementare! Un gatto a noleggio deve essere pericoloso! Oh, penso che questo andrà bene! Consegna per te! Tienilo forte, devo andare! Ok, gatto pericoloso! Vediamo cosa sai fare! Bene, predatore! Hai catturato il topo? Cosa? Ma questo è troppo carino! E tu dovresti essere pericoloso! Grazie per il tuo duro lavoro, palla di pelo! Ciao, dolce anguria! Cosa? Qualcuno l'ha già mangiata? Ah, un topo! Ecco, brutto roditore malvagio! Ecco dove sei! Sei nei guai! Ma ti prenderò! Funziona! Penso di aver trovato qualcosa! Forza! Oh no! Oh no! Non credo sia il topo! Era la poltrona a sacco dei vicini! Ora l'imbottitura è nel mio appartamento! Fantastico! Proprio quello che mi serviva! Ehi, che è successo alla mia poltrona? Il topo si è mangiato tutto di nuovo! Voglio mandare un messaggio a questa ragazza da un sito di incontri! Vuoi uscire con me oggi? Oh, mi piacerebbe! Non ho più tempo! Devo prepararmi! Un vestito nuovo! Trucco! Un topo! Levati dalla mia testa, roditore! Oh no! I miei capelli! La battaglia con il topo l'ha lasciata in pessime condizioni! Questa è la fine! Dovrò cancellare l'appuntamento! I topi sono dei parrucchieri orribili! Basta così, topo! Sei in trappola! Ops! Sono io che sono finito in trappola! Il mio telefono! Oh no! È in vibrazione! Ci sarà una reazione a catena di trappole! Era solo un sogno! Cos'è questo? Formaggio? Oh no! Una trappola per Toby! Ho una fervida immaginazione! Che ne dici di provare di nuovo a far sì che questo appuntamento si realizzi? Vuoi uscire con me? Mi piacerebbe! Mi piacerebbe! Quando e dove? Oggi è alle 6! Invia? Invia! Ehi! Perché non ti invii? Si è bloccato! Ah! Ecco la fonte del problema! Un cavo masticato! Sono stufo di questo stupido topo! Ehi! Allora quando l'appuntamento? Deve aver cambiato idea! Ho quasi finito! Sto per scoprire chi è l'assassino! La risposta è nell'ultima pagina! Cosa? Dov'è l'ultima pagina? Solo il topo sa chi era il cattivo! Ora basta! Questa è l'ultima goccia! Stai attento topo! Ehi! Che è stato? Un terremoto! Cosa c'è sullo scaffale qui? Le tracce del topo? Odio questo topo! È ora di pagare, piccolo topo schifoso! Wow! Qualcosa mi sta tirando lo spolverino! Che è successo? Oh no! Il topo ne ha staccato a morsi la metà! Ah, topi! Un enorme mostro dentato vive in quel buco! Devo farlo fuori una volta per tutte! Stai per essere spazzato via! Wow! C'è il carnevale lì dentro! Brutto maleducato! Ti sterminerò! Questo? No! No! Oh sì! Prendi questo, mostro! Il topo mi prende in giro! Questo è tutto! È guerra! Chi è là? Di certo non un topo! Ciao! Scusa per il muro! Ecco di chi è la colpa di tutto! Ehi là, biricchino! Chi abbiamo qui? Il nostro piccolo cupido peloso! Ecco la tua parte, piccoletto! Grazie per averci fatto incontrare! Ti è piaciuta la nostra caccia al topo? Scrivi qui sotto se hai mai avuto topi in casa e cosa è successo! E ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un like al video e cliccate sulla campanella! Non perdete i nuovi spassosi video di WooHoo!